Mi sento di dire che abbiamo dominato la partita fino al primo momento, abbiamo avuto un calo, ci sta, siamo a fine della stagione, ci sta anche la stanchezza, ma poi siamo state brave a riprenderla, a stare tutte sul pezzo. La motivazione era quella di riprendere dopo Roma, anche se il nostro obiettivo già l'avevamo raggiunto, ma comunque volevamo lasciare il segno in qualunque modo, quindi tutte eravamo motivate. Noi che entravamo dalla panchina, chi iniziava dall'inizio, tutti, tutti quanti, il mister, lo staff, tutti. Beh, sicuramente la partita contro il Napoli che ci ha dato la salvezza matematica, scontato dirlo, però quella è la fotografia che mi porto. A quella della Samp darei un bel 9,5 perché abbiamo fatto veramente un'impresa, nessuno credeva in noi, alla mia personale mi do una sufficiente, dai, un 6,5, un 7. Grazie.